La voce dell'Agenzia. Rubrica di informazione fiscale a cura dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna. Ascoltatori della Web Radio, un cordiale saluto vi giunge da parte di Biagio Cunzolo. Continuano i nostri appuntamenti di approfondimento in materia fiscale e in questa puntata speciale vi presentiamo una nuova funzionalità del canale di assistenza telematica CIVIS che da qualche giorno consente anche di chiedere assistenza sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione. Ospita in studio il collega Giuseppe Casino dell'Ufficio Gestione Tributi. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Bene Giuseppe, per iniziare questo nuovo argomento iniziamo a spiegare ai nostri amici ascoltatori che cos'è questo canale di assistenza telematica CIVIS. CIVIS è un canale telematico che offre vari servizi. Lo si può utilizzare ad esempio per richiedere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento ricevute in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione, oppure per correggere gli errori commessi nella compilazione del modello di pagamento F24. Ci si può avvalere di CIVIS anche per richiedere assistenza sulle comunicazioni ricevute a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi, o ancora per trasmettere la documentazione utile a chiarire la propria posizione fiscale in seguito alle comunicazioni ricevute. Da qualche giorno, come dicevi prima, CIVIS si è arricchito di una nuova funzionalità. È ora possibile, direttamente online, chiedere il riesame in autotutela degli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione ritenuti in tutto, in parte, infondati. Ecco, Giuseppe, chi può utilizzare dunque CIVIS? Lo possono usare tutti oppure soltanto gli intermediari? La piattaforma CIVIS può essere utilizzata sia dagli intermediari che dai privati cittadini. Per accedere è necessario essere abilitati ai servizi telematici dell'agenzia, Fisco Online o Entratel. Ebbene, che differenza c'è tra Fisco Online o Entratel? L'abilitazione a Fisco Online possono richiederla tutti i contribuenti che hanno più di 16 anni, comprese le società e gli enti, che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, cioè il modello 770, per più di 20 soggetti. Imprenditori e professionisti che pagano stipendi e compensi a molte persone e quindi devono presentare il modello 770 per più di 20 soggetti, devono invece utilizzare il servizio telematico Entratel. Ebbene, quindi sicuramente il canale Fisco Online è quello utilizzato dal maggior numero di cittadini e lo ricordiamo serve anche per accedere alla propria dichiarazione precompilata. Giuseppe, visto che ci siamo, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori interessati cosa occorre fare per richiedere il codice PIN di Fisco Online? Si può chiedere il PIN attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it oppure in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia, compresi gli uffici del territorio, per intenderci l'ex catasto, ancora per telefono al numero 848 800 444 oppure attraverso l'app dell'Agenzia delle Entrate, scaricabile sul proprio smartphone. Ed entriamo nel vivo dell'argomento di questa puntata. Dall'11 luglio il canale di assistenza telematica Civis si è arricchito di una nuova funzionalità che permette di richiedere assistenza sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione. Puoi spiegarci come si accede a questo servizio? Bisogna collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it e accedere all'area riservata inserendo il codice fiscale, la password e il codice PIN che come dicevamo prima può essere Fisco Online o Entratel. Alla voce Assistenza tecnica e fiscale occorre quindi selezionare il link Civis e poi il servizio Istanze autotutela locazioni. Effettuato l'accesso, poi come si procede? Come prima cosa è necessario individuare l'avviso per il quale si vuole richiedere assistenza. Per effettuare la ricerca servono l'identificativo del contratto di locazione e il numero d'avviso. Entrambi questi dati sono indicati nell'avviso di liquidazione per il quale si vuole richiedere il riesame in autotutela. Il secondo passaggio è quello di selezionare il motivo per cui si ritiene l'avviso in tutto o in parte infondato ad esempio perché l'imposta di registro è stata già pagata oppure non è dovuta perché il contratto è in cedolare secca o ancora il contratto si è risolto anticipatamente o è stato ceduto. Una procedura guidata indirizza l'utente a fornire tutti gli elementi necessari per trattare l'istanza differenziati in relazione al motivo scelto. Inserite le informazioni richieste è possibile inviare l'istanza. Per conoscere l'esito della richiesta di assistenza è necessario accedere nuovamente a Civis selezionando questa volta la voce Consultazione delle richieste. In caso di annullamento parziale dell'avviso è possibile stampare l'F24 precompilato contenente gli importi rideterminati a seguito della lavorazione effettuata dall'ufficio. Ricordo infine che è possibile chiedere di essere avvertiti della chiusura della pratica tramite sms o email al ricapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica indicati nella richiesta. Il tutto sembra piuttosto semplice Giuseppe ma ricordiamo ai nostri amici ascoltatori questo appunto particolare. Si può operare da soli o d'occorre rivolgersi ad un professionista? La procedura è piuttosto semplice e intuitiva quindi facilmente utilizzabile anche dagli utenti meno esperti. Sul sito internet dell'agenzia è possibile consultare la guida all'utilizzo del servizio come funziona Civis, istanze autotutela, locazioni. In alternativa fai-da-te è possibile farsi assistere da un intermediario abilitato. Ricordo che oltre agli incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possono utilizzare il nuovo servizio Civis, istanze autotutela, locazioni anche i soggetti abilitati alla trasmissione telematica dei contratti di locazione ad esempio le agenzie di mediazione immobiliare, le agenzie di pratiche amministrative, gli iscritti negli albi professionali dei geometri e dei periti industriali, ecc. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata, però prima ricordiamo quali sono i vantaggi di questa nuova funzionalità. Il nuovo servizio consente di ricevere risposte in tempi rapidi direttamente a casa o dal proprio studio senza recarsi in un ufficio territoriale dell'agenzia. Ebbene, si conclude qui questa puntata speciale dedicata alla nuova funzionalità del canale di assistenza telematica Civis. Ringraziamo Giuseppe per la sua disponibilità. Grazie Giuseppe. Arrivederci a tutti. Un cordiale saluto da parte di Biagio Cunso, non solo in studio oggi, anche con Gianfranco Mingione e a risentirci alla prossima.